Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a scoprirne insieme l'app che io utilizzo per fare degli investimenti a partire da 10€ quindi alla portata di tutti che però possono portare grandi soddisfazioni stiamo parlando di Oval ma andiamo a scoprirne insieme le funzionalità e tutto quello che riguarda questa applicazione e questo servizio soprattutto dopo la sigla eccoci allora in questo nuovo video appunto dove andremo a fare diciamo una recensione più anche una mia esperienza su Oval adesso ecco qui vedete questa è la carta perché stiamo parlando di un servizio Oval Money che però comprende un vero e proprio conto corrente completamente gratuito che vi fornisce anche una carta di debito in questo caso vedete molto bella verde con il vostro nome dietro poi troviamo tutti ovviamente i numeri da poter utilizzare perché è una carta di debito classicissima legata a questo diciamo conto corrente più che conto corrente è servizio magari Oval l'avete già sentito nominare ma io diciamo sono sempre stato appassionato dagli investimenti o comunque dalla finanza fintech avete visto altri video e oggi vi volevo mostrare approfonditamente l'applicazione e il servizio che utilizzo per fare degli investimenti investimenti che sono alla portata di tutti poiché possono partire da 10 euro come investimento minimo quindi tutti possono investire anche pochi spiccioli per appunto far fruttare questi soldi che sicuramente se tenuti fissi in banca o comunque perderebbero diciamo il loro valore per l'inflazione adesso io non ho fatto economia o tutto quanto però sicuramente possiamo farli fruttare quelli che ovviamente non ci sono necessari perché l'investimento deve essere fatto con quel capitale uno che è a rischio quindi si è disposti sia a perdere che a guadagnare e poi chiaramente con quel guadagno con quei soldi che non si ha la necessità di dover spendere ma partiamo con ordine ovale è un'applicazione disponibile per android e ios semplicissima ci si registra in modo gratuito anzi se vorrete iscrivervi al servizio vi lascio il mio codice invito un amico a cui riceverete 5 euro che potrete spendere semplicemente ordinando la vostra carta e spendendoli online o nei negozi quindi verrà fatto verrete registrati e riceverete appunto un conto corrente con IBAN italiano e diciamo che Oval Money fa capo un po' a quelle che è il gruppo Intesa San Paolo quindi veramente c'è da fidarsi anche proprio come applicazione non andrà in banche strane tutto italiano in appunto gruppo Intesa San Paolo quindi i soldi sono sicuri questo conto corrente appunto vi permette totalmente gratuito 0 euro non vi chiederanno mai niente vi riceverete la carta di debito un vostro IBAN potete fare bonifici SEPA tradizionali senza spendere niente ricevere bonifici insomma fare tutti pagamenti poi tra utenti Oval sono rapidi e gratuiti oppure appunto per esempio 1 euro potete fare un bonifico istantaneo e questi vabbè sono costi che hanno tutte le banche ma la cosa diciamo interessante di Oval è che è uno strumento per farvi risparmiare risparmiare in che senso? esempio vi invoglia appunto racimolare degli spiccioli quando magari potete impostare che pagando con la vostra carta Oval magari spendendo 1 euro e 90 vi arrotonderà per eccesso quindi di quei 10 centesimi lì vi verrà accantonato in un fondo che vorrete voi così da accumulare dei soldi per degli obiettivi che vi siete proposti una vacanza uno smartphone o qualsiasi altra cosa e questo diciamo sono chiamate regole e possono riguardare anche per esempio ogni 5 chilometri mi accumuli 10 euro ogni volta che acquisto per esempio al supermercato mi tieni via 5 euro quindi è tutto diciamo un voler aiutare a risparmiare quindi quei 10 centesimi magari che sono per eccesso di certo non vi cambiano la vita ma 10 centesimi oggi 10 centesimi domani magari a fine anno vi ritrovate lì un gruzzoletto che potete spendere chiaramente questo è un risparmio poi la grande la grande diciamo parte che io utilizzo per il 90% è quella degli investimenti investimenti che riguardano degli etf quindi sono delle obbligazioni in generale quindi anche se troviamo appunto per esempio possiamo comprare azioni di grandi società che sono per esempio Apple Netflix Amazon Microsoft poi questi questi investimenti queste diciamo proposte di investimento cambiano continuamente quindi vi verranno proposte sempre affidabili e diciamo sul momento quindi per cavalcare l'onda magari di possibili trend è presente anche per esempio Bitcoin in questo caso noi non andremo a comprare esempio azioni di Apple o andremo ad investire in Bitcoin direttamente ma sono delle obbligazioni quindi che seguono l'indice per esempio delle azioni Apple oppure dell'andamento di Bitcoin e quindi diciamo è un investimento un po' più diciamo sicuro e controllato rispetto magari appunto a comprare e vendere delle azioni o dei Bitcoin tramite appunto degli exchange particolari e anche qui tutto è tutto in un'ottica di risparmio a lungo termine infatti quando vorrete per esempio disinvestire o investire in qualcosa non avverrà in modo istantaneo ma magari ci vogliono uno o due giorni lavorativi ma io vi posso assicurare che anche appunto partendo da 10 euro di minimo che è il minimo investimento potrete sicuramente con i vostri magari risparmi investirli in qualche in qualcuna delle proposte e sicuramente potranno fruttarvi o anche appunto andare in perdita chiaramente io vi ripeto non sono un confluente finanziario e il vostro capitale è a rischio quindi non è detto che guadagnate però sicuramente è possibile anzi è molto probabile che magari questi soldi possono col tempo aumentare e quindi sicuramente fare degli investimenti è la base perché i soldi di certo non possono rimanere immobilizzati in banca a perdere perché chiaramente con tutti i costi e l'inflazione chiaramente il loro valore con gli anni poi si perde e quindi poi chiaramente questo fatto un acquisto iniziale da 10 euro poi si possono fare degli aumenti diciamo in questi investimenti sia tramite una tantum quindi adesso voglio investire 10 euro lì aggiungo 10 euro oppure sempre con quelle regole che vi ho spiegato ma voi vi chiederete ok ma nell'ambito diciamo fiscale quando disinvesto e quindi ho fatto una magari plus valenza come faccio a pagare le tasse qui c'è una grande novità che Oval ha introdotto dall'inizio di quest'anno cioè Oval è diventato lo sostituto d'imposta nel senso che lui si occuperà in modo totalmente automatico senza che voi veni occupiate col commercialista o col pagamento delle tasse con un costo di 10 euro all'anno che quindi è veramente basso quando disinvestirete con una plus valenza chiaramente il pagamento delle tasse su quella plus valenza verrà fatto totalmente completamente da Oval quindi con questa cosa diciamo siete veramente salvi e non avrete problemi col fisco quindi io vi consiglio chiaramente di farlo disponibile sia questa opzione sia quella che ve ne occupiate voi col vostro commercialista ma io vi consiglio che per 10 euro all'anno è possibile fare questa cosa quindi io utilizzo appunto questa applicazione per fare degli investimenti che sicuramente possono poi portarvi delle soddisfazioni quindi io vi consiglio anche partire da poco piano piano ogni mese ogni settimana quando vorrete accumulate investite qualcosa e sicuramente vi porterà magari delle belle soddisfazioni spero che vi sia piaciuto mentre non vi piace al video condividetelo iscrivetevi al canale visitate il mio sito vi lascio il link in descrizione come anche il link per seguirmi sui principali account social e anche il link ovviamente affiliato per avere 5 euro gratis all'iscrizione del servizio e ovviamente ci vediamo in un prossimo video ciao ciao Ciao